Il mio tradizionale ben trovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia. Parliamo di caro energia, caro bollette, un argomento che abbiamo affrontato varie volte ma che continuiamo ad affrontare perché è la crisi di questi giorni, di queste settimane, di questi mesi. Il nostro ospite in studio oggi è l'imprenditore Alessandro Fontanini che ringraziamo per essere qui con noi, imprenditore ma non soltanto, organizzatore di una manifestazione che in questi giorni tornerà a portare l'attenzione sul tema, tante ce ne sono state, questa è una manifestazione nelle manifestazioni, si intitola Non spegneteci, sì alquanto significativo, un hashtag che è stato anche lanciato in rete, ma facciamo un attimo un passo indietro e vediamo da dove parte tutto questo, o meglio come stanno le cose dal punto di vista dei costi, ormai lo sappiamo purtroppo tutti per aver ricevuto le nostre bollette, per aver assistito alle aziende che chiudono, per aver visto quello che viene appeso più volte dai commercianti anche nelle loro vetrine con le bollette decuplicate in alcuni casi, ma a Fontanini chiediamo come mai l'idea di questa iniziativa che nasce per così dire dal basso? Sì, buonasera intanto, grazie a Bloc Sicilia per l'ospitalità, buonasera ai telespettatori, volevo appunto dire questa cosa del Non spegneteci, da dove nasce? Nasce dalla esigenza di tanti piccoli imprenditori che come me si sono visti ricapitare bollette veramente sose, molti poi parlando un attimo perché ho incontrato tanti commercianti, veramente tanti, dove la disperazione, la tristezza, sentirsi veramente colpiti dal caro bollette li sta mettendo in condizioni in tanti di chiudere, qualcuno ha utilizzato il gruppo elettrogeno per cercare di smorzare quello che è il costo del caro energia, abbassando un po' i costi, per non creare quelli che possono essere i cosiddetti licenziamenti del personale per poter sostenere questo duro colpo economico all'impresa. Ovviamente ci sono tanti commercianti, tante persone che si stanno lamentando e che non ce la fanno, non possono farcela e quindi ecco la volontà da parte mia, parlando con tutti questi miei colleghi, definisco così a tutti gli effetti, quello di creare una manifestazione pacifica che inizierà il 21 ottobre con partenza alle 20.30 da Piazza Castelnuovo, salvo qualche eventuale riconoscimento che può essere imposto dalla Questura di Palermo, ma comunque questo sarà il punto di partenza, quello di dare vita a una fiaccolata, una fiaccolata che è simbolica, sta a significare la cosiddetta processione alla morte dell'impresa e a quelli che sono i problemi generati all'interno del budget familiare, che anche lì viene eroso costantemente e continuamente da quelli che sono i cari bollette. Anche la famiglia che vive di stipendi in questo momento soffre di una crisi non indifferente, oltre ai rincari che abbiamo visto nel mercato di tutti quelli che sono i prodotti, tra cui i beni di prima necessità sono aumentati dal pane. Stiamo vedendo scorrere le immagini di alcune proteste dei giorni scorsi, abbiamo assistito a proteste di ogni genere e misura, proteste di alcune categorie imprenditoriali, proteste anche di giovani, di associazioni, di tutti. Perché avete sentito l'esigenza di un'altra protesta o meglio di un'altra aggregazione? Abbiamo sentito l'esigenza di scendere in piazza insieme a tutti gli altri, perché comunque oramai c'è un tam tam che cresce giorno dopo giorno all'interno del nostro territorio siciliano, ma vi posso garantire che sta crescendo in tutto il territorio nazionale. Io vengo contattato anche da associazioni che a Napoli, a Roma vogliono organizzare, insieme a tutti gli altri paesi che sono già scesi in piazza, una manifestazione nazionale per sensibilizzare il nuovo governo a veramente pensare che in questo momento in Italia c'è una grande emergenza, l'emergenza è quella economica. Io devo dire che ho sentito tante soluzioni, vorrò invitare al giorno 21, magari alle 21.30 in questo caso davanti all'Assemblea regionale, il neo eletto governatore a presenziare ed attenderci carinamente lì per dare un segnale di conforto e fare rientrare il caro Bollette fra le sue emergenze di governo. Sappiamo ovviamente che ancora il governo non è formato, però il Presidente ha detto che lui si farà capo di quelle che sono le esigenze di emergenza della regione siciliana, questa è un'emergenza, ecco perché ci fermiamo davanti in piazza del Parlamento e sarebbe veramente carino da parte dell'onorevole Schifani, attenderci e dare questo segnale a questo popolo che non ha colore politico, la manifestazione non ha assolutamente un colore politico, voglio precisarlo, è totalmente apartitica, aperta a tutti perché signori miei la bolletta dell'Enel o del gas sicuramente non ha un colore politico, sta creando danni seri all'economia, è un danno sociale. Questo è un po' quello che manifestano, per cui protestano tutti, ma vi siete fatti un'idea su come si potrebbe intervenire da questo punto di vista? Avete delle proposte da avanzare, anche perché ci sono due, forse anche tre canali, da una parte c'è una richiesta che viene avanzata nei confronti dell'Unione Europea, da un'altra parte al Stato Centrale e adesso voi dite anche alla Regione, ma sono tre i canali che bisognerà seguire? Sì, diciamo che noi siamo ovviamente legati a quelle che sono le decisioni dell'Europa, così come il governo nuovo ovviamente dovrà ottemperare quelle che sono le decisioni dell'Europa, però penso che ovviamente gli strumenti per poter ottemperare quelle che sono le esigenze, le problematiche del popolo italiano li hanno tutti. Io ovviamente non voglio essere un tecnico, non mi sento in grado di poter suggerire, anche se il mio suggerimento è pronto, e ne parlerò se l'onorevole Schifani sarà così gentile da riceverci davanti l'Assemblea regionale, perché la soluzione c'è. Io sono un po' contrario a quelli che sono alcuni interventi, le faccio un esempio, non avrebbe senso pagare alle bollette, perché pagare alla bolletta una tantum non è una soluzione. Pagare alla bolletta si riferisce a pagarla con denaro pubblico, esattamente, non avrebbe senso, però dico molti fanno la richiesta di avere degli interventi economici per essere aiutati a pagare le bollette, io più che pagare le bollette vorrei mettere in autoproduzione tutte le famiglie, i condomini e le imprese, ovviamente ci sono i sistemi tecnologici che ci consentono questo, ci arriviamo tutti. Potrei parlare di PNRR, potrei parlare di transizione ecologica, che ce lo dice l'Europa, posso parlare anche di quelle che sono gli ecobonus, quindi io vorrei suggerire così, da stupido, consentitemi dirlo, piccolo imprenditore, un'idea che sia risolutiva di lungo periodo, senza colpire nessuno e risparmiando un po' di denaro pubblico, una tantum, questo è quello che si chiede. Ecco il motivo per cui ho creato questa piccola manifestazione, che credo che non sarà piccola perché abbiamo tante associazioni che si sono affiancate a noi, faccio un esempio, abbiamo dei sindacati… Ecco, potremmo qualche numero, qualche idea, abbiamo allora il sindacato Sinalp Sicilia che si sta affiancando a noi, l'associazione Trinaca Studentesca che si sta associando a noi, alcuni commercianti, tra cui Maccheda Futura, che è un'associazione di commercianti di via Maccheda che si sta affiancando a noi, abbiamo tante altre famiglie che si stanno affiancando a noi, tantissimi altri gruppi sicilianisti di qualsiasi area geografica, tra cui Cefalù, alcuni paesi si stanno aggregando anche a noi, oggi c'era una manifestazione a San Cipirrello e io li ho invitati a venire anche tutti insieme uniti a questa manifestazione, l'idea è quella di dare un segnale vero, per far capire chi eventualmente non vive le realtà giornaliere di chi lavora e di chi fa impresa, per ovvi motivi, fargli capire che c'è un popolo che effettivamente vuole delle risposte, risposte che devono essere necessariamente fatte dal nostro governo che ci sarà, perché ci sarà un nuovo governo. Se da una parte c'è quindi questa idea di pensare a investimenti che nel medio termine che possano portare una soluzione appunto nel medio termine del problema, c'è anche un problema nell'immediato, ci sono aziende che rischiano di chiudere domani mattina? No, ci sono già aziende che hanno chiuso, io corre col tiro, intanto ci sono i media ovviamente che pubblicano giornalmente quelli che sono, li chiamo bollettini di guerra, visto che c'è una guerra in atto, noi abbiamo una guerra interna che è quella delle imprese che stanno chiudendo. Ho letto l'altro giorno su varie testate giornalistiche nazionali che 4 milioni e 900 mila abitanti non sono stati in grado di pagare le bollette, ovviamente con il distacco dell'utenza. Continua il percorso di tante persone che ricevono bollette che non riescono a fare perché ne pagheranno una, ma la prossima che arriva di entità superiore non saranno in grado di pagarla, quindi è un qualcosa già di preventivato. Altre testate giornalistiche nazionali parlano addirittura dei rincari del 100% per l'anno che verrà, nel 2023, quindi già comunque in un'economia distrutta da la Sicilia, poi specialmente il sud Italia era già in crisi economica pre pandemia, poi abbiamo sofferto, vissuto due anni di pandemia che ha distrutto totalmente l'economia e adesso praticamente abbiamo il caro bollette che sta dando il colpo di grazia alle aziende. Ecco perché servono soluzioni immediate, soluzioni che non vanno a ulteriore a danneggiare quello che è il debito pubblico che ormai è alle stelle e quindi io penso che se vi è la volontà e l'attenzione da parte della politica sia locale che nazionale, ma io sono abbastanza fiducioso in tal senso, probabilmente questo problema si risolve. Dietro un imprenditore c'è una famiglia, ma dietro la famiglia dell'imprenditore ci sono tante altre famiglie che si guadagnano il loro stipendio, quindi il danno sarebbe superiore, ogni chiusura di impresa significa creare ulteriore debito, perché? Perché comunque scatterebbero le casse integrazioni, inizierebbero a esserci tanti altri costi che comunque è la perdita di un contribuente, che poi non è più uno, perché sono tanti, ma veramente tanti, ecco perché occorre un'immediata soluzione. Spero di poterne parlare graziosamente la sera del 21 ottobre con il nostro onorevole Schifani, che ovviamente vi invito nuovamente ufficialmente a venire ad accoglierci. Questo è quindi il messaggio, ma fondamentalmente sta crescendo questo gruppo che andrà a protestare a Palermo, ma in queste ore di manifestazioni ne assistiamo in tutta la Sicilia. Ci sono dei contatti, state cercando dei contatti, creando dei contatti anche con i gruppi che si vanno creando spontaneamente nelle altre città, nelle altre regioni. Personalmente sono stato contattato anche da associazioni nazionali e vogliono creare una manifestazione nazionale per la quale praticamente a Palermo io ho detto vediamo di punto di organizzarla perché sarebbe carino, ma ieri per esempio ce n'è stata una enorme a Mazzara, non so se avete avuto la possibilità di vedere alcuni video. Abbiamo anche trasmesso immagini di quella manifestazione, abbiamo raccontato quella manifestazione, abbiamo attualmente qualcuno a San Cipirrello e San Giuseppe Iato che si sono uniti come comuni. Diciamo che oramai è un tantam che va cercandosi sempre più di... oggi, ieri ho sentito via messaggio Quartararo, che tutti ovviamente in questo momento ne parlano, il panificio, che ovviamente è in serie difficoltà, ha ricevuto una bolletta di quasi 80 mila euro. Lo dico io, ha messo insieme un gruppo di panificatori che hanno già manifestato una volta e che aderiscono in maniera massiccia a quella che stava la manifestazione del 25 di ottobre. Io personalmente ho invitato anche loro e credo che saranno presenti anche loro giorno 21 praticamente insieme a noi, anche perché, ripeto, questo è un problema che è sociale, è un problema di tutti, è un problema dei piccoli imprenditori, delle famiglie, qui oramai bisogna realmente essere uniti senza guardarsi in Cagnesco perché è una delle peculiarità di noi siciliani, consentitemi di dirlo perché non riusciamo a fare rete, questo scusatemi lo sfogo, però purtroppo è così. Evitiamo di essere leoni da tastiera sotto i network o sotto i social network, cerchiamo per la prima volta di scendere tutti in piazza, educatamente e civilmente e fare questa fiaccolata che il simbolo della fiaccolata è appunto quello della processione, cioè noi porteremo poi un'urna che sarà depositata davanti all'assemblea regionale pur non essendoci il governo, ma comunque c'è scritto sopra, qui già ci sono le ceneri delle imprese che non sono state aiutate. Quindi di fatto è un funerale delle imprese che mettete in scena, ma è un problema delle imprese, ma è un problema come accennavi anche poco fa, molto più o più di così, perché è un problema che rischia di diventare occupazionale e quindi da questo punto di vista, è un problema delle famiglie e quindi un problema sociale a tutto il tondo. Sì, esattamente e questo è quello che noi vorremmo evitare perché le soluzioni ci sono, c'è un governatore che è stato il primo in Italia a fare un'operazione investendo 100 milioni di euro all'interno della propria regione, dico il nome e il cognome che è Massimiliano Fedriga, che è il governatore della regione Friuli Venezia Giulia, che ha fatto subito un intervento per sostenere famiglie, condomini, imprese all'interno della propria regione, mettendo subito in campo 100 milioni di euro. Io quell'azione la condivido in parte perché secondo me ci possono essere delle migliorie che tecnicamente possono risolvere in maniera definitiva il problema. Io vorrei una soluzione che sia definitiva. perché mettere in campo soldi pubblici per poi ovviamente andare a finanziare quello che è l'attuale speculazione non aiuta nessuno. Forse lo speculatore viene aiutato, sì, perché si vede pagata ovviamente la bolletta che è impagabile. Fondamentalmente facciamo un passo indietro. Vi sarete anche fatti un'idea di quali sono le cause di tutto questo? Come si è arrivati fin qui? Si dice la guerra in Ucraina ma sicuramente ha avuto un ruolo ma forse non è quello essenziale. Quali sono le idee che vi siete fatti anche perché per costruire una strategia per uscire da questa situazione bisogna avere un'idea di partenza? L'idea è quella che ovviamente a causa delle sanzioni imposte dall'America alla Russia e che ovviamente l'Europa si è dovuta adeguare, tra cui la nazione italiana si è dovuta adeguare, addirittura noi siamo fornitori di armi in favore dell'Ucraina per combattere la loro guerra. io adesso non voglio entrare nei meandri della politica internazionale perché ho una mia idea e la tengo per me perché non vorrei diventare come il classico terrapiattista, non mi va. Però sicuramente in questo momento una cosa palese è quella della speculazione. Abbiamo in atto una forte speculazione, lo dico i dati che vengono pubblicati anche dal governo uscente dove ci sono miliardi e miliardi di utili fatti dalle società di Stato. Quindi l'idea un po' folle potrebbe essere quella di è possibile che i governi attuali uscenti stanno colpendo gli italiani sui beni di prima necessità, unico modo per incassare soldi? Questo potrebbe essere un pensiero. Una delle manovre che si ipotizzano in Europa è anche quella della tassazione degli extragettiti per cui andare a tassare particolarmente questi guadagni in più, questo sorpreso di guadagno per finanziare proprio questo genere di difficoltà sociale. Sì, il problema è questo. Lo vuole l'Europa, l'extragettito è un qualcosa che viene appunto tassata dall'Europa ma io ancora ad oggi non ho visto nessuna tassazione su queste grandi aziende. Ricordiamoci che noi siamo uno Stato che ha regalato milioni e milioni di euro a società che devono pagare tasse provenienti dal gioco. Forse non ci ricordiamo quello che è successo nei precedenti governi. Ma non voglio farne una questione politica, mi creda, altrimenti potrei sembrare quello che fa campagna elettorale, non sto facendo campagna elettorale, io da piccolo imprenditore che soffro del caro bolletta, mi sono unito a tanti amici e tanti colleghi che non ce la fanno ad andare avanti, quindi l'idea è proprio quella di creare questa manifestazione a partiti, lo ribadisco e non mi stancherò mai di dirlo, per tante e tante persone che ovviamente aderiranno, per poter trovare una soluzione, una soluzione che deve partire da noi e dal basso. Però è ovvio che dobbiamo far capire che siamo uniti, altrimenti chi ci governa potrebbe pensare, va bene, questi non si lamentano, quindi andiamo avanti. L'ultimo tema da affrontare, a mio modo di vedere, è quello dei costi dell'energia, l'energia viene prodotta soltanto in parte da quelle che sono le fonti che provengono dalla guerra, ci sono però fonti di energie rinnovabili, di cosiddette energie pulite che si trovano a produrre a costi minori, ma viene rimanduta con l'energia allo stesso medesimo prezzo di tutta l'altra. Da alcuni dati che ho letto sembrerebbe che l'Italia sia un paese molto indietro rispetto alla produzione dell'energia rinnovabile, addirittura forse ne produciamo il 37% che è veramente un parametro molto molto basso. Sicuramente è dettato da quelli che sono appunto i meandri della burocrazia nazionale, quelli che sono decreti di attuazione, quindi decreti attuativi, la burocrazia ha sempre bloccato tutto in Italia, lo sappiamo benissimo, le semplificazioni che tutti parlano, tutti ovviamente utilizzano questo linguaggio della semplificazione, abbiamo il ministro della semplificazione, io penso che sia arrivato il momento di liberalizzare realmente la produzione energetica, bisogna puntare sulle rinnovabili, su tutte quelle che sono le fonti esistenti che tecnicamente sono ben conosciute in tutto il mondo e liberalizzarle, non si può fare un fotovoltaico, per esempio oltre un megawatt bisogna attendere due anni per avere un'autorizzazione. vincoli che non hanno senso, io ho visto persone, amici miei, che hanno terreni agricoli, che se non hanno i capannoni agricoli non possono fare l'agrifotovoltaico o eventualmente l'autorizzazione oltre il megawatt deve essere autorizzata ma per avere l'autorizzazione di secondo di anni. Sì, ci sono in atto tante, tante, tante liberalizzazioni, ma di fatto si parla sempre di liberalizzazioni, poi quando si va a depositare il primo pezzo di carta lì iniziano i problemi, quindi sicuramente vi è la necessità reale di sbloccare immediatamente quelle che sono le autorizzazioni, proprio eliminarle, cioè il popolo deve essere in grado di fare così, non ho dove mettermi i fanelli fotovoltaici a casa, fate fare le tettoie fotovoltaiche così come dite che esistono e che non sono soggettate a nulla perché sono in libera edilizia, però qui fondamentalmente sembra che ci sia uno scollamento tra quelli che sono gli ordinamenti nazionali, poi ci sono gli ordinamenti regionali, poi ci sono quelli comunali, ancora non è stata ricipita le leggi, semplifichiamo veramente perché in questo momento l'Italia tutta, specialmente il sud Italia, ha bisogno di una soluzione, la soluzione è quella di liberalizzare immediatamente tutto, fate produrre l'energia elettrica a tutti, specialmente per il fabbisogno personale, così forse probabilmente si risolverà un serio problema. Bene, andiamo ormai verso la chiusura di questa trasmissione e a questo punto vi lascio un poco di spazio semplicemente per fare un breve riassunto, dunque le imprese in piazza, diciamo quando, a che ora, dove, il titolo della manifestazione, ricordiamo l'hashtag, è l'invito che vogliamo fare a chi è rivolta questa manifestazione. Perfetto, allora il 21 ottobre, dopo domani, alle 20.30 partiremo da piazza Castelnuovo per percorrere via Ruggero VII, via Macheda, saliremo poi dai quattro canti percorso Vittorio, sino ad arrivare alla piazza del Parlamento. L'hashtag è non spegneteci, è appunto lo stesso nome dell'hashtag lo dice, gentilmente cercate di non fare spegnere queste imprese che già molte sono state spente dal caro Bolletta. Un appello che viene lanciato da questa manifestazione a chi? Un appello viene lanciato personalmente da me e da tutti i commercianti e piccoli imprenditori della città di Palermo e degli altri paesi anche, quello che l'onorevole neoeletto presidente Schifani si faccia vedere quella sera, magari anche verso le 21.30 e dare un segnale simbolico a questo popolo che sta facendo questa fiaccolata e impegnandosi con loro a trovare una soluzione, perché caro Presidente, come dice lei, questa è una delle vere emergenze che abbiamo in atto in Sicilia. Grazie ad Alessandro Fontanini, imprenditore e organizzatore di Non spegneteci, grazie soprattutto a voi che avete seguito questa puntata di Talk Sicilia, vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo Talk, arrivederci. Alessandro Fontanini, imprenditore e revisione a cura di QTSS